Pacciani me lo ricordo a studio 2-3 volte, ma lì a questione di lui entrava io rimanevo con mia madre, perché mia madre era la segretaria di mio padre, quindi lo studio era quello, noi in altra stanza lui colloquio con mio padre, poi ovviamente erano più le volte mio padre andava a Sollicciano a casa di Pacciani, dipende dai periodi. Quando vedevo Bevacqua comunque si vedeva cena, spesso andavano da Perseus perché mio padre era in Piazza della Signoria e Bevacqua era in Biala Marmora, una mole di documentazione enorme, cioè i fascicoli erano tanti, le carte erano tante ma le prove erano zero, proprio zero prove. È stato uno dei casi indiziari per eccellenza, condannare Pacciani per degli indizi. È curioso che negli anni si sia cercato sempre un colpevole ulteriore, cioè Pacciani, i compagni di merende, il farmacista, il gastroenterologo, il legionario, cioè sembra che questa storia non debba finire mai. Perché nessuno ha una certezza. Grazie. Grazie. Grazie.